Allora, François Modesto, nuovo dirigente della Roma. Andremo a vedere un po' chi è. Mercato ora per ora. Dopo l'addio di Tiago Pinto, la Roma avrebbe individuato il nuovo direttore sportivo, che sarebbe François Modesto, attuale uomo del mercato del Monzo, con una lunga esperienza italiana. Anche da calciatore, grazie alle 5 stagioni a Cagliari. Lo riporta il Corriere dello Sport, che sottolinea però che per chiudere l'adattativa, è di chi al momento non sarebbe convintissimo, però mi sa che è molto molto vicino. Se ne è parlato anche su altri giornali, l'Uvaera potrebbe essere attualmente il direttore dell'area tecnica del Monzo e questo potrebbe rappresentare un certo peso nella scelta della dirigenza Zalorosa. Conosce già la Serie A e il suo profilo sembra corrispondente esattamente alle richieste dei Fritz, che ossia conosce il calciomercato italiano e lo storiano rapporto lavorativo con la Seolina Suluku, Suluku ha allertato Modesto un paio di mesi fa. Forte del rapporto che aveva funzionato ai tempi dell'Olimpia, con su quando a Tricori ha aggiunto un intuito che Tiago Pinto non sarebbe stato confermato alla guida dell'area sportiva. Danno e Rianfriede, che i proprietari dell'Uva, secondo, sono da già nel lavoro per sostituire il direttore Tiago Pinto. Al momento c'è un nuovo in proposition che raccoglie l'arietà del portugese, che ovviamente era molto regato a Murillo. La nuova risale in classifica e aspetta il sostituto di 5 profili e François Modesto è quello in vantaggio. Modesto è il polverino di Dierse, scrive oggi il Corriere. Attualmente è uno del Vantaggio in Monza, se non è la situazione. Allora, secondo me, vi dico la verità, sto direttore sportivo, secondo me sarebbe proprio accolto nella società Roma. E adesso vi spiego anche il perché. Allora, lui è un nuovo che conosce bene la Serie A, come hai detto prima nell'articolo, e quindi già calza a pennello con gli ideali della Roma, è quello che chiedono i Friedkin. È molto esperto perché anche Almoza sta portando acquisti tutto il rispetto, sta facendo acquisti per portare a salvare la squadra. E secondo me a Roma sarebbe perfetto. A Roma, secondo me, farebbe quegli acquisti che mancano per raggiungere la zona Champions League. Secondo me è perfetto, e se fossi della Roma prenderei quello. Al momento è molto molto vicino. E secondo me arriverà perché, già come ho letto da questo articolo, i Friedkin non sono convintissimi, però si potrebbero convincere da un momento all'altro, come è scritto dall'articolo, per me si fa. Per me si fa, ragazzi, per me si fa. Comunque ragazzi, questa è la mia opinione su François Modesto, che sarà al 99,9% l'ODS della Roma. Se volete ditemi la vostra qui sotto nei commenti, lasciatelo in commenta in descrizione, condivisione e campanellina. E noi ci becchiamo con un prossimo video. Ciao ragazzi, bella, romanisti, monzesi, tifosi del Monza e non, ditemi la vostra. Ciao ragazzi.